Nelle ultime due conflitti mondiali è ritrovato ormai con odore da tutte le compagnie del mondo un piano porca montana che si rompe tutto come si è successo? ti ha detto? la signora qui fa gentilmente notare che la era a una certa età e allora bisogna usare una certa età forza faccia di culo, avanti, avanti, lo so faccio non lo dovrò perdere io e andiamo a Gesù prima io dai sprigati canzo che stai capendo la seconda e l'abbiamo le cose che si soppi ma oggi hanno te, mi pare la pezzana proprio sono più stante che nuove la stanza è un'altra età non è un'altra età non è una cosa che non si è successo ora lo so, la stanza è meglio ma la stanza è successo ma la stanza è successo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.